E rieccoci in diretta in questa puntata specialissima di oggi di Voce delle Chiese che in realtà si occupa anche di altri temi, uno dei temi importanti è il legame con l'ambiente e ne parliamo in questa trasferta di oggi a Terra Madre. Siamo a Torino all'interno del Salone del Gusto 2024, Parco d'Ora, fino al 30 settembre potete venire a curiosare, a guardare, ad acquistare ovviamente ma soprattutto ad informarvi. Il bello di questo spazio è che davvero ci sono tantissime opportunità di conoscere qualcosa di nuovo, qualcosa che non si è mai visto, assaggiato, di cui non si sapeva la conoscenza, non si sapeva la produzione, quindi insomma è davvero una miniera di apprendimento. Rita Tieppo, la nostra prima ospite, buongiorno Rita, Rita è già fuori onda e mi ha raccontato una valanga di progetti di cui si occupa, inizierei dal primo, a cui ci siamo legate appunto mentre cacchieravamo prima della diretta, che si lega un po' anche col tuo percorso personale, perché Terra Madre compie quest'anno 20 anni, questa è la ventesima edizione, ma compie 20 anni anche un progetto che hai lanciato e che insomma festeggerete domani proprio, perché sono 20 anni degli orti scolastici, giusto? Esatto, esatto, diciamo che Terra Madre, 20 anni fa, la prima edizione di Terra Madre, 2004 2004, 2004, esatto, al Palavela eravamo, è stato anche il primo momento in cui un piccolo gruppetto di insegnanti che stava sperimentando un po' per conto suo questa esperienza, abbiamo dato voce a queste primissime esperienze di orti scolastici, proprio nel momento in cui, peraltro Slow Food, un po' prendendo l'ispirazione dagli orti scolastici americani che Alice Water, che era la presidente internazionale di Slow Food, aveva un po' portato in Italia come esperienza, quindi un po' con quel tipo di esempio, ma come dire, adattandolo alla nostra realtà, stavamo cominciando a dar forma a questo progetto. Mi fa un po' sorridere che arrivi dall'America all'esempio degli orti scolastici, però è una cosa curiosa, prendiamo il buono. Noi prendiamo da tutto, guarda questa idea è andata e venuta in tutto il continente in una maniera meravigliosa, è arrivata da lì, dalla California, attraverso l'esperienza di Alice, noi l'abbiamo rimaneggiata e fatta nostra molto mediterranea, legata anche al nostro modo di far scuola che è molto diverso, a metà di questo percorso, Carlin Petrini, se ti ricordi, ha lanciato i mille orti in Africa, perché invece l'orto è anche, come dire, una forma di sussistenza della comunità e quindi abbiamo tutti contribuito, nel senso che abbiamo creato gemellaggi tra i nostri orti scolastici e quelli che nascevano in Africa, quindi è un continuo andare e venire, che è il bello delle idee che circolano a terra madre. E che mi dicevi un orto scolastico non solo ha, diciamo, una valenza educativa per i ragazzi, per i bambini, insomma, delle scuole, quindi prendersi cura di qualcosa, farla crescere, imparare insieme, come dicevi, insegnanti e ragazzi, perché all'inizio non è detto che uno sappia esattamente come si fa, si costruisce, si prepara anche prima il terreno per un orto, sono tutte cose che bisogna imparare, bisogna attingere alla sapienza di chi ne sa di più e quindi ecco che entra in gioco una comunità attorno a questi orti. Assolutamente sì, credo che questo sia l'elemento che abbiamo subito portato dentro la progettualità di questo orto, anche quando andavamo a proporlo ad altri plessi, ad altre scuole, lo pubblicizzavamo, in effetti le insegnanti, ma come è successo a me? Cioè la prima cosa dice, però io non so da che parte cominciare. Allora, io non so, detto da una vecchia insegnante, io non so da che parte cominciare, è il momento migliore dell'apprendimento, perché significa cercare le informazioni, andare a chiedere a chi sa, da insegnante l'altra cosa meravigliosa è che eravamo in due a non sapere bene cosa fare, avevamo una bella idea, ma ne io e neanche i miei alunni, quindi insieme siamo andati a chiedere a chi sapeva, nelle piccole comunità chissà, il nonno che sta facendo l'orto, un papà che ce l'aveva, quindi abbiamo fatto entrare a scuola pieno titolo altri saperi, non meno importanti di quelli che noi, come dire, utilizzavamo tutti i giorni. E questo ha veramente fatto nascere la comunità dell'apprendimento, che significa che ognuno mette in gioco nel gruppo ciò che sa, poco, tanto, cose diverse, l'insieme è qualcosa di nuovo. Adesso la rete si è allargata e oltre a festeggiare i vent'anni, immagino festeggerete anche appunto un territorio che state coprendo amplissimo. Assolutamente, la rete ormai è rete italiana, quindi copre tutte le regioni, che più e chi meno. E si affianca alle scuole all'aperto, quindi anche a questo percorso di avvicinamento? Assolutamente, perché ogni realtà poi prende e costruisce con ciò che ha. Quindi se sei già una scuola che ha quell'imprinting, questo progetto ci entra meravigliosamente perché sembra costruito apposta. Chi invece, voglio dire, è molto vario e ognuno lo adatta. Ci sono situazioni dove ci sono le scuole col giardino, allora dissodi un pezzo del giardino, fai il recinto, fai un orto che è proprio vero, proprio come quello del nonno. Nelle situazioni urbane ci sono delle scuole che hanno voglia di fare questa cosa, di far sperimentare i bambini questo approccio con la natura, ma magari non hanno assolutamente un'aria verde, non hanno lo spazio, allora si inventano la collaborazione con l'azienda agricola, con qualcuno che conoscono. E di nuovo si crea comunità. E di nuovo crei comunità e ognuno fa con ciò che ha. Bene. Quindi non è il programma scolastico, è un progetto assolutamente molto artigianale, se mi permetti. Certo. In cui, che costruisci sulla scuola che hai, sulla comunità che hai, sulla cittadina che hai. E che si modifica nel tempo. Si modifica nel tempo. Certo, può esserci un momento magari un po' più di euforia, oppure un momento più di stanca, ma questo ci sta, nei progetti è normale. Assolutamente. Questo andamento così un po' a sinusoide. Quindi insomma, vent'anni di orti scolastici, vent'anni di terra madre, vent'anni di orti scolastici. Domani festeggiate con qualche appuntamento speciale, Rita. Sì, domani c'è un bello appuntamento speciale, nel senso che c'è una conferenza proprio dove tiriamo un po' le fila di questo progetto per rilanciarlo in una veste nuova, perché è così che si fa, no? Quando uno vuole andare avanti non è che sta sugli allori. Vent'anni ci hanno insegnato delle cose, intanto perché Slow Food ha dato un'importanza enorme alla formazione, quindi tutte le insegnanti che aderiscono a questo progetto ne che aderiscono così e fanno un orticello. Assolutamente, c'è tutto un percorso. Esatto, ma c'è un percorso formativo tutti gli anni con degli esperti, ognuno di noi, insomma noi vecchi abbiamo tutti fatto anche un percorso di formazione, per cui man mano negli anni aumenta anche il numero dei formatori, cioè di persone che mettono a disposizione la loro esperienza per altre scuole che arrivano nuove, eccetera. Quindi la formazione è assolutamente indispensabile per fare questo progetto. Quindi tutto questo gruppo ormai molto vario, molto grande, che coinvolge tutte le regioni italiane, una rappresentanza, cioè tutti quelli che siano qui a terra madre come delegati, ci vediamo alle sei e mezza per rifare il punto della situazione e rilanciare un'idea ancora più vasta di orto come collegamento attivo e quotidiano col nostro essere natura, dove a questo punto gli orti scolastici sono uno di queste declinazioni di orto, ma insieme ci stanno gli orti di comunità, che possono essere quelli di condominio, possono essere gli orti terapeutici delle comunità, possono essere gli orti delle comunità degli anziani, dei centri di recupero, cioè negli anni abbiamo visto nascere tante esperienze, perché l'orto cura anche, non insegniamo solo la cura del pianeta. Te ne prendi cura, ma ti cura anche, in qualche modo. Bravissima, ma ti cura anche. Lì c'è, ad esempio per i bambini, la più grossa scoperta in una società del qui e ore dell'immediato, il tempo, il tempo che è necessario, il tempo, da quando semini o da quando metti un piantino in insalata, quando cresce e te la puoi mangiare, c'è un tempo che non si conosceva. È vero, questo è un aspetto importante, forse in questo periodo davvero difficile forse da comprendere, ma in questo modo concreto e pratico è tutto più semplice. Diventa naturale, e soprattutto non lo puoi forzare, assolutamente. Un altro progetto di cui parliamo insieme a Rita Tieppo, che è con noi oggi in questa diretta specialissima dal Salone del Gusto di Torino, Terra Madre, dove rimarremo fino alle 15 nel consueto orario della nostra trasmissione. Prima ci ha parlato Rita degli orti scolastici, di questo percorso degli orti comunitari, un percorso educativo, ma anche sociale, di lavoro comunitario che porta alla realizzazione di un orto, comunque a un lavoro anche per prendersi cura dell'ambiente che ci circonda. Un altro progetto di cui fa parte, viene raccontato in questo libretto che mostro a chi ci sta guardando in diretta video, che è il progetto Dieci donne che salvano la terra. Tra queste dieci donne ci sei anche tu, Rita, ce ne sono altre, ognuna che si occupa di un argomento, di un ambito molto diverso. Tu sei insegnante, ma ci sono apicoltrici, ci sono pastore, ci sono divulgatrici, casare, quindi viticoltrici, quindi comunque tutte donne che in qualche modo con la terra hanno a che fare, con l'agricoltura hanno a che fare. Assolutamente sì, è un progetto che nasce in collaborazione tra la Regione Piemonte e Slow Food Italia, allora proprio in estrema sintesi, in maniera anche molto incompleta, ma insomma l'idea era un po' questa, di dare spazio e visibilità a una cosa che noi sapevamo, è che la terra è donna, l'agricoltura in realtà è donna, la cura, la preparazione del cibo al di là dei grandi chef che sono, è femminile, è insito nella, ma proprio nel nostro modo femminile di essere al mondo, l'idea della cura e del rispetto, quindi si voleva dar voce a questo femminile il più diverso, allora è stato chiesto a tutte le comunità piemontesi di segnalare a questa giuria, c'era proprio una giuria, storie di donne che secondo loro con le loro scelte, il loro impegno eccetera stavano attivamente facendo qualcosa del bene al pianeta. Allora quando mi hanno detto che io ero una di queste dieci e ho visto che stavo in questo bel gruppo con due magnifiche ragazze giovanissime che fanno le pastore, una picoltrice, la panettiera, la cuoca, cioè subito ho detto no scusate avete sbagliato qualcosa, io c'ho la maestra, cosa è in comune con loro? Me lo sono veramente chiesto e poi la folgorazione appena ci siamo viste tutte insieme e conosciute, ho capito perché eravamo tutte nello stesso gruppo, perché siamo delle artigiane, perché anche il bravo insegnante è un artigiano che non ripete delle robe solo perché sono scritte nei programmi, ma ha un'idea, ha degli alunni, ha una classe diversa tutti gli anni e insieme si costruisce un'idea nuova, una cosa nuova, quindi anche gli orti scolastici sì, è bene quest'idea degli orti scolastici in realtà salvano il pianeta, esattamente come fare pastorizia in un certo modo, salvano il pianeta, tanti piccoli gesti che però tutti insieme io credo possano fare qualcosa, la differenza di sicuro. Molto bello, quindi dieci donne piemontesi, dieci donne che lavorano in ambiti diversi, che testimoniano in modo diverso appunto la cura del pianeta e sono raccolte in questo donne che salvano la terra che appunto è uno dei progetti di cui vi ho parlato oggi Rita. Bene, tra l'altro posso ancora dire una cosa che, allora in internet naturalmente si trova sul sito di Slow Food e ci rimando questo progetto, su questo progetto sono state, c'è un podcast che si può sentire, molto bello perché ci sono tutte le storie reali di queste dieci donne e anche i motivi che le hanno portate in Alcusicali a cambiare vita, a fare un lavoro più vicino alla terra, le interviste eccetera, quindi anche un materiale molto interessante da ascoltare. Bene, hai fatto molto bene a ricordarlo, quindi insomma approfittiamone di questa possibilità. Io ti ringrazio Rita per essere stata con noi, buona continuazione in tutti i tuoi progetti e le tue attività e grazie ancora per la tua disponibilità. A presto. Grazie, a voi arrivederci.